Proprio alla vigilia della prima edizione 2018 della Giostra del Saracino arriva la notizia dello scioglimento dell'Associazione Amici della Giostra. In una lettera aperta al sindaco di Arezzo, il presidente Giancarlo Felici, Giorgio Marmorini, Paolo Nocentini, Sergio Anasi, Vittorio Beoni e Marco Rosati, responsabili dell'organizzazione sviluppo e gestione dell'Associazione comunicano lo sciogliemento. Purtroppo ad Arezzo, scrivono a Ghinelli, sono stati tutti messi da parte, anzi è stato dichiarato che non hanno titolo per imporre le loro idee. La Giostra è oggi ingestata in una istituzione che si è dimostrata un soggetto giuridico che non ha mai svolto le funzioni che non avevano giustificato la creazione. Secondo l'Associazione ha fallito sotto il profilo organizzativo, economico e soprattutto per la qualità del risultato finale. Noi ci siamo comportati sempre bene secondo le leggi e regolamenti in primis e secondo le direttive indicate dall'istituzione. Nessuno ci ha mai contattato e siamo quindi addivenuti alla conclusione che ognuno ha la propria dignità che deve proteggere e tutelare. Noi abbiamo perso una scommessa ma sicuramente l'amministrazione comunale non ha vinto. La nostra decisione non è stata facile, anzi sofferta. Abbiamo passato anni di amarezza nel dover constatare quanto dilettantismo prevale in Giostra. Non ci treremo mai da parte, sicuramente la Giostra ci vedrà ancora presenti, ma lo faremo singolarmente da liberi cittadini senza coinvolgere alcuna associazione. Non è il caso, prosegue la lettera al Sindaco, di elencare tutto ciò che abbiamo fatto. Lo faremo dopo la Giostra quando organizzeremo una tavola rotonda a cui inviteremo tutti gli appassionati e daremo in omaggio una raccolta di tutte le proposte e le idee, descritte con disegni, relazioni e quant'altro, promosse in otto anni di attività. Signor Sindaco, inviamo a lei questa missiva in quanto la Giostra della città e la città è il Sindaco come punto di riferimento. Crediamo che lei, come primo cittadino, si debba assumere la responsabilità diretta della Giostra, come fanno i suoi colleghi di Siena, Ascoli, Foligno e tante altre città. Le deleghe nella Giostra non servono, si contorni di uomini capaci, formi commissioni competenti, faccia le regole giuste e inattaccabili e sia severo con chi non le vuole rispettare. Oggi l'ufficio Giostra non esiste e dobbiamo ringraziare la signora Rossella se si fa la Giostra. Non si fidi, prosegue la lettera degli amici della Giostra, di coloro i quali usano espressioni roboanti come spettacolare, magnifico, eccezionale, non è così che si fa crescere la Giostra. Lei stesso condividerà con noi che diventeremo adulti quando toglieremo le reti al pozzo, non disturberemo il corteo e i giostratori e soprattutto ce la consenta, non andremo a fare la premiazione su un terrazzino privato che evidenzia nel suo complesso la disorganizzazione dell'evento.